Manifestazione, i bambini non si toccano, ritornano le scarpette bianche anche a Cagliari il 7 settembre 2019, la scalinata di Bonaria antistante piazza di 100.000 e Viale Diaz dalle 18 alle 23. Tra le organizzatrici c'è ancora Ivana Mureddu, contanto di magliettina d'ordinanza, giù le mani dai bambini, quante persone vi aspettate? Minimo una cinquantina, ovviamente speriamo che ce ne siano di più, speriamo di conoscere tanti genitori che sono stati coinvolti in questa brutta vicenda, speriamo che molti abbiano il coraggio comunque di presentarsi perché hanno paura comunque di mostrarsi, tutti insieme comunque ce la faremo sicuramente. Sono delle situazioni notoriamente delicate, si parla di minori, tra l'altro anche questo movimento delle scarpette bianche anche a Cagliari è nato soprattutto dopo i fatti di Bibiano. Sì. Dalle 18 alle 23 sabato che cosa farete? Innanzitutto metteremo le scarpette bianche nella gradinata di Bonaria, ci confronteremo fra di noi, avremo modo così di avere più... La possibilità comunque di interagire tra voi, di conoscervi. Certo, certo. Quindi 18-23 a Cagliari, scatta di Bonaria, voi avevate utilizzato uno slogan della scorsa manifestazione che sarà svolta fuori dal Tribunale per i minorenni sempre qui a Cagliari, ovvero Bibiano e anche a Cagliari, Bibiano e anche in Sardegna, lo confermate questo slogan? Certo che lo confermiamo. Certo che lo confermiamo.